Non solo al centro della città si svolge la vita teatrale cittadina. Meno conosciuti e tuttavia animati da magnifiche energie, diversi teatri realizzano la loro attività nei quartieri di periferia o appena al ridosso della cinta cittadina. Al Teatro Nuovo, nei quartieri spagnoli, va in scena Ultime notizie dalla famiglia di Daniel Pennac, protagonista il signor Malossene, interpretato da Antonello Cossia, che sostiene l'insolito ruolo di padre affrontando da genitore moderno, fra umorismo e poesia, l'impegno di una pedagogia laica ed emancipata. Al Teatro Area Nord di Piscinola, sabato e domenica sarà in scena Lavaro, con di Rosario Sparno, rielaborazione della celebre commedia di Molière innestata con l'Aulularia di Plauto, in un'operazione originale che rafforza gli effetti comici del testo. Che cosa hai detto del derubare? La compagnia Bianco Fango è in cartellone a Sala Icos, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, con Fragile Show, uno spettacolo ispirato al soccombente di Bernard e interpretato da Andrea Trapani, che conclude la trilogia dell'Inettitudine. E ancora fino a domenica, Gea Martire sarà all'Art Garage di Pozzuoli, con Cafone, una scrittura di Antonella Cilento che dà voce all'insolita figura di una brigantessa sannita, Filomena Afuchera, rabbiosa sognatrice che non si arrende alla repressione piemontese subito dopo l'unità d'Italia. poter essere istruito sul, si addivente libero.